...quindi lui lo sa, sono venuto su, perché era una cosa proprio da vedere questa cosa, perché come si fa a dimenticare che ho lavorato 50 anni in questa azienda, l'ho vista nascere, l'ho vista tutte le cose, come ha detto lui lo sa, anche altre cose che non ha messo, che era una cosa un po' delicata e non li ha alleccati, però veramente ha dato l'anima, grazie a quel signore lì.